L'anno io vivevo con mia mamma che mia mamma viveva con me, no? Sì, Carlo Farina 65, l'ho detto niente. E ricordo che aveva la Renault, aveva la Renault quella che c'era le marce tutti così, tu e nonno. E' venuto e mio fratello, tuo padre, mi ha detto lì lo pensa, mio suocero l'hanno multato, la polizia stradale perché andava troppo piano. Perché con tua nonna, lui e tua nonna erano insieme, no? Con la Renault. Insomma andava 30 all'ora sull'autostrada, ma si può. Ma una brava persona. Faceva il direttore di banca. Ah, sì. Sì, credi, Lionel. Sì. Sono morte quando avevo 12-13 giorni. Sì, sì, sì. Tu puoi andare d'estate sull'Atlantico. Ci piace, sei mai stato? Ah, non ci piace male. Non? Sì, sì, scusa, sì. Ah, sei stato? Sì, però non con... Non con Gianmarco. Beh, Gianmarco c'è la casa là. C'è la casa, c'è il garage, c'è la piscina. C'è la casa, c'è la casa, c'è la casa.